Andrea Montanari, classe 1987, personalità da vendere, vero romagnolo doc. A Rimini ci giocò in passato nella Berretti, debuttando tra i professionisti sotto la gestione a cori. A Marcianise, durante il percorso di carriera si è formato come uomo e come calciatore. Il calcio è un divertimento, se hai la coscienza a posto non puoi abbassare lo sguardo e non guardare i tifosi in faccia. A Rimini perché voleva da anni tornare nel luogo che più volte aveva toccato a parole, ma non con i fatti. C'è Sena come crescita, Ravenna come simpatia, Bellaria come inizio di carriera e Rimini come squadra del cuore. In meno di 5 minuti tocchiamo i punti salienti della conferenza stampa e dell'intervista andata in onda nella giornata di martedì 6 giugno. Forza Rimini, già parto bene perché io sono di Cesenatico, non di Cesena, però ho militato qua anni fa e quindi sono contentissimo di venire qui perché dovevo venirci anche l'anno scorso e 7 anni fa e non ce l'ho mai fatta. Quindi quest'anno per me è un'occasione, è un'esperienza importantissima. Il classico Mastino, sono un pochettino all'antica si può dire, non sono di quei giocatori bellini da vedere, sono un misto di tutto. Sono un po' tanti ruoli, ho giocato in tutti i ruoli a parte il portiere che sono veramente negato. E niente, sono uno che diciamo suda tanto ma riesce anche a impostare. Quindi sono un mastino, un mastino. Perché sono uno che di solito tende magari più a difendere e poi sono magari troppo generoso a volte. Dovrei essere un po' più egoista, forse quello sì. Però a me se faccio gol io, se faccio gol un altro, a me mica niente, basta che la squadra venga e sono a posto. È da migliorare ovviamente, perché se no mi tirano i seggiolini alla schiena. Scegliere è facilissimo. Facilissimo, già avevo detto un mezzo sì l'anno scorso, solo che onestamente la categoria non mi stimolava, non è per essere superiore alla cosa. Però preferivo rimanere un po' in categoria. Poi a gennaio ho deciso di venire, solo che per altri motivi non sono riuscito a venire, non mi hanno fatto venire qua. E quest'anno appena ho ricevuto la chiamata sono stato contentissimo. Non me l'aspettavo neanche così immediata e appena mi ha chiamato Pietro ho detto va bene, vengo subito. Nel calcio di oggi non puoi fare progetti, non puoi pensare a niente, biennali non esistono quasi più, soprattutto in Serie D, devi sempre un po' guardarti attorno e devi scegliere le società un po' più serie. Rimini da questo punto di vista mi ha dato subito un'enorme fiducia e anche per questo motivo ho accettato, perché già vedendo dove siamo oggi si capisce di cosa stiamo parlando e si capisce il progetto in cui sono entrato a far parte. Il vizietto del gol è molto raro, è un tabù, faccio pochissimi gol, non so neanche io il perché, quando io tiro in porta a me fanno i miracoli, e gli altri invece fanno gol. Però io mi definisco un mastino, perché ho giocato quasi in tutti i ruoli, al terzino, al centrale difensivo, ho fatto anche l'attaccante e quest'anno anche il trequartista. Quindi già vi posso capire perché sia retrocessi magari, forse è quello il motivo, non lo so. A Marcianese sicuramente, il primo anno in C1 sì, avevo 21 anni, 22 anni, mi sono trovato in mezzo al sud Italia, potete capire un pochettino com'è, è un altro mondo. Quindi lì sono sicuramente maturato penso del 60-70%, là sono diventato più ometto. Ho capito veramente cosa significa vivere di calcio e stare in mezzo alle persone, perché veramente è un altro mondo giù. Vabbè, tifo Rimini, cavolo, che domande, che domande. Sono un po' un ibrido, se volete mi espongo anche, però io sono un misto di tutto. Tifo, sia Ravenna, perché mio fratello, ho una storia, ho passato la mia infanzia nello stadio di Ravenna io, e dice Cesenali cosa vuoi fare a Ravenna? Mio fratellone, Cristian, giocava a Ravenna. E io ero sempre tutte le domeniche allo stadio, al Benelli, sempre. Quindi Ravenna un po' ce l'ho anche nel cuore, diciamo. Cesena, come faccio non averlo nel cuore? Mi ha cresciuto, quindi è inevitabile. Che poi si è andato un po' in maniera, che non sono rimasto lì, amen. E in Rimini c'ho militato, militato. C'ho giocato in Beretti ed è stato un anno anche lì importantissimo per me, perché io qua ho fatto il debutto tra i professionisti. Ma io, obiettivi, sinceramente, me ne previso sempre uno, che è quello di far bene e dare il massimo. Che sarà una frase scontata, ma ahimè è così. Se tutti diamo il massimo si ottiene sempre il meglio, che poi sia vincere, 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 vincere una squadra. Tanto ne sento i discorsi tutti gli anni, noi puntiamo a vincere, tutti vogliono vincere. Tutti. Poi dopo, quelli che vogliono veramente vincere e che vincono sono, cioè ce n'è uno, ce n'è uno. Poi ci sono quelli che dicono, ah, vogliamo vincere, pensano di vincere e retrocedono. Divertiamoci. Divertiamoci. Non è una guerra. Io sono passato in situazioni dove tutti dipingevano il calcio come una battaglia, una guerra, il metto scudi. Cosa dite? Non è così. Il calcio è divertimento, la penso veramente così. È così. Ovvio ci sono i momenti dove ti devi mettere nel metto e andare, sì, ma sempre sorridendo. Cioè, vai a giocare a calcio. Poi che ci sia il tifoso che dice qualcosina, eh, amen. Poi ci fai le abitudini. Non è quello lì. Il calcio, cioè, bisogna divertirsi. Io penso che quando hai la palla tra i piedi e fai correre gli altri, ti diverti più di tutti. Poi ci sono le domeniche, oh, non la prendi mai anche se sei più forte, eh, dopo ti tocca, ti tocca bestemmiare, ti tocca, cosa devi fare. Però alla fine, eh, sì, se hai dato il massimo, stai bene. Io quando torno a casa e so che ho dato il massimo, ah, io anche se ho perso, guarda, io dico, oh. Mi gira le balle, però dico, cavolo, io ho dato il massimo. Io sono a posto. Cosa devo fare di più? Se mi vogliono dire due parole, amen. Sono qui. Cosa devi fare?